Ciao amici, questo video è dedicato a tutti i golosi di pizza che vogliono dimagrire senza rinunciare al loro piatto preferito. Eccone uno, allora sarà felice e se siete felici anche voi mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Il concetto è semplice, la pizza, se di buona qualità, può essere un cibo sano, quindi se si mantengono le calorie sotto controllo nulla vieta di dimagrire mangiando pizza. Questa è la premessa della dieta della pizza secondo la ricerca che l'ha creata. Ma come si fa una pizza sana? Scopriamolo insieme. Per prima cosa l'impasto dovrebbe essere di farina integrale o semi integrale per avere un corretto apporto di fibre. Bene anche farina di kamut, dovrebbe contenere antiossidanti e qui ci aiuta il pomodoro ricco di licopene. Non devono mancare grassi buoni, ad esempio l'olio extravergine di oliva, olive, capperi, noci, pinoli e vitamine e minerali data dalla verdura come rucola, zucchine, melanzane, funghi, carciofi. È la mia adorata scamorza? Ma stiamo parlando di dimagrire no? Se volete una pizza light e dimagrante, meglio fare a meno del formaggio e della mozzarella e anche evitare salumi, salsiccia e wurstel. Alla larga anche da fritti e dagli abbinamenti troppo complicati. Per le proteine bene legumi, tonno, acciughe, uova, per chi non è vegano. Potete anche acquistare una base per pizza e fare le vostre creazioni light a casa. Che bella idea! Scrivetevi le vostre ricettine di pizza sana. Secondo questa dieta la pizza si può mangiare a scelta a pranzo o a cena e nell'altro pasto si consumano proteine magre con verdure cotte e crude. Il tutto condito da una sana attività sportiva regolandosi in base al proprio fabbisogno calorico è possibile perdere fino a un chilo a settimana. Per vedere altri video e dimagrire mangiando iscrivetevi al canale, è facile, con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Ma se youtube non vi avvisa andate nella home del canale perché pubblico ogni giorno. Mangia sano e dimagrisci! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!